buongiorno compagni di viaggio inizia un nuovo giorno qui a londra siamo alzati molto presto ma siamo andati anche a dormire molto presto perché eravamo stanchi e stiamo andando in questo momento a canary wharf un quartiere finanziario dove vogliamo andare a fare un di fotografie per fare questo dobbiamo andare a prendere l'overground domenica mattina della città ancora dorme ed eccoci in canary wharf il quartiere finanziario di londra con quella fermata della metro famosissima questa era un'antica zona portuale chiamata isle of dogs dove si trovavano i depositi che servivano in moli delle docksland prese il nome dei commerci marittimi con le isole canarie oggi è domenica mattina e si vede le strade qua sono deserte immaginatevelo qua il lunedì mattina alle 8 con tutta la gente che corre infatti abbiamo letto che in questo quartiere ci lavorano 80.000 persone forme strane che si mischiano adesso siamo venuti a prendere la metro sull'acqua da canary wharf si può raggiungere il centro di londra oltre che con la metropolitana anche con un servizio di traghetti di uber box e il percorso è davvero spettacolare qui abbiamo la torre di londra vedete se siamo passati sotto il tower bridge è stato bellissimo adesso siamo scesi siamo di fronte al shakespeare globe il teatro dedicato a shakespeare adesso stiamo attraversando il millennium bridge di fronte a noi abbiamo sample cathedral laggiù c'è la city laggiù ancora in fondo c'è il tower bridge con lo char la scheggia di vetro e qua dietro la paid modern il museo d'arte moderna questo giardinetto tra i palazzi si chiama postman's park si chiama così proprio perché qua venivano a riposarsi in pausa i postini di londra è una città in continuo mutamento l'ultima volta che sono venuto in questa zona qua nella city of london c'era la metà dei palazzi probabilmente i palazzi questi qua moderni infatti vedete che anche qua dentro stanno costruendo un nuovo grattacielo attraversando la city raggiungiamo il quartiere di shoredit e di brick lane le zone hipster creative ed alternativi di londra dove potremo trovare mercatini negozi vintage e street art di ogni tipo facciamo una bella multina eh questo è il mercato alimentare di brick lane peccato non vi possa trasmettere l'odore che c'è che potentissimo noi ci cuculiamo con un bel rice bowl buono guardate questa chiesetta medievale come sopravvive circondata da palazzi sempre più alti immaginatevi un piccolo prete che si risveglia in questa chiesa esce e si ritrova qua in mezzo saremmo voluti andare lassù allo sky garden dove c'è un bar panoramico con la terrazza però purtroppo ci sono settimane di attesa siamo all'interno della chiesa di San Dunstan East una chiesa distrutta all'interno adesso c'è un meraviglioso giardino ci sono un po' di ragazze che si fanno fotografare e the tower of london il castello che contiene i gioielli della regina e la corona le spiagge londinesi immaginatevi la pulizia di quella sabbia adesso dato che abbiamo un pochettino di tempo prima di andare sul grattacielo ci facciamo un giretto alla Tate Modern al museo d'arte moderna questa sala surrealistica è meravigliosa questa sala surrealistica è meravigliosa ed è arrivato il momento di salire sullo shard qua aspettiamo l'ascensore per salire sullo shard questo è il secondo ascensore che dal 33esimo ci porta al 68esimo se non sbaglio mamma mia che roba raggiù c'è il tower bridge la casa che abbiamo affittato noi è qua in questa zona quella laggiù è Canary Wharf dove eravamo questa mattina dove c'è il quartiere finanziario vedo là sotto il famosissimo tower bridge che da qua si vede in maniera fantastica e qua c'è la torre di londra e laggiù c'è la city e da questo lato anche se è un po' contro sole vediamo tutto il centro di londra tutta la periferia di londra e si sale ancora dal 69esimo al 72esimo piano l'ultimo piano disponibile per questo grattacielo e qua all'ultimo piano il soffitto è aperto vedete dove arriva la punta del palazzo ci sono un'altra decina di piani che però sono interdetti ci sono solo antenne e volendo c'è il baretto per prendersi un aperitivo di fronte a questo spettacolo è arrivato ahimè il momento di scendere e lasciare questo posto incredibile esperienza mega 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 consigliata costa tanto ma è mega consigliata una piccola curiosità questo potrebbe essere uno dei bagni più belli al mondo per darvi giusto due informazioni su The Shard il grattacielo appena visitato è stato inaugurato nel 2012 sul progetto dell'architetto italiano Renzo Piano è alto 309 metri 83 piani di cui una settantina abitabili infatti ci sono sia uffici che appartamenti pochi minuti fa eravamo laggiù e adesso invece stiamo tornando all'appartamento dopo aver fatto la spesa al tramonto per la nostra penultima serata qui a Londra come vuole il tempo quando ci si diverte e va bene così salutiamo l'appartamento buongiorno da Londra è iniziato l'ultimo giorno qui in questa città meravigliosa in questo deserto apparente ci muoviamo verso Prime Rose Hill ecco che arriva il nostro bus siamo arrivati a Prime Rose Hill questo bellissimo parco in questa zona residenziale molto molto carina adesso saliremo in cima perché da lì c'è una bellissima vista sulla città di Londra ed eccoci in cima wow si vede tutto lo skyline di Londra qui c'è la city The Shard londonai il centro di Londra sempre bello Prime Rose Hill adesso scendiamo e andiamo in quella direzione lì verso Camden Town ma vogliamo semplicemente costeggiare i canali di Camden Town per poi andare verso il centro la particolarità di questo canale è che ci sono queste case galleggianti qui io non so sinceramente se ci vivrei ma è molto particolare e caratteristico da vedere con queste casette colorate è tutto molto pittoresco e adesso siamo nell'inconfondibile Camden Town con i suoi negozetti ormai solo negozi per turisti con questo cielo grigio che sembra fatto apposta trafalgar square trafalgar square un cielo plumbeo sopra la statua dell'ammiragno Nelson e da trafalgar square si prende the mall il viale che porta a Buckingham Palace e vedete che laggiù in fondo c'è Buckingham Palace adesso la strada è chiusa e mi stanno urlando di andarmene si costeggia St. James' Park poi ci sono tutti i preparativi per il giubileo che sarà tra pochi giorni dove la regina esagerà i 70 anni di regno beata lei come farsi mancare il cambio della guardia reale andiamo al Buckingham Palace c'è il Buckingham Palace che purtroppo è tutto recintato da tribune della cerimonia e adesso ci addentriamo un pochettino dentro St. James' Park uno dei polmoni verdi della capitale inglese un pochettino inglese è un po' naturale già solo per vedere il palazzo che contiene il museo vale la pena venire fin qua sembra un po' Hogwarts pensate che questo museo ospita circa 70 milioni di reperti organizzati in 5 collezioni principali botanica, entomologia, mineralogia, paleontologia e zoologia e l'ingresso è gratuito e questo di fronte ad Hyde Park e a Kensington Garden è la Royal Albert Hall che ha questa costruzione circolare che assimilia un po' al politiama di Napoli e proprio di fronte c'è l'Albert Memorial questa piccola cultura dedicata al marito della regina Vittoria la Royal Albert Hall che è la sala da concerti più famosa di Londra ed è stata inaugurata nel 1871 poi di fronte c'è l'Albert Memorial che è veramente immenso questo è il meraviglioso Hyde Park il parco secondo me più bello di Londra tra i tanti bellissimi infatti una delle cose che apprezzo di più e amo di questa città sono proprio i suoi parchi, i suoi giardini sempre curatissimi, verdi dove ci si viene a rilassare la statua di Peter Pan e prima di lasciare Londra non poteva mancare una birretta in un tipico pub londinese di fronte a Liverpool Street oh nooo ebbene sì è finita anche questa avventura salutiamola amata Londra e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao